Visitare la zona rossa di Camerino dimostra anche oggi, permette di capire di quanto lavoro ancora ci aspetta per ridare di nuovo vita a queste realtà, a queste città, a questi territori, unendo la sfida della ricostruzione fisica degli edifici con tutti gli interventi necessari anche per ridare qualità ai servizi di un territorio come quello del cratero così duramente provato. Fare i conti con il silenzio di questa realtà è un modo per capire quanto sforzo ancora va prodotto ed è un richiamo alla necessità di unire le forze. Vanno trovate le forme per integrare al meglio le azioni da parte del governo con le realtà locali e soprattutto di costruire una serie di interventi che permettono nei prossimi anni di ridare vita piena a queste realtà.